Un marsupio della Walden Norman Gill, di ottima qualità, questo è il loro bigliettino, un bel ringraziamento. Il marsupio è bello grande, è molto ben rifinito, con delle ottime cuciture, veramente molto buone. Qui sotto abbiamo rivestimenti anche in pelle, anche qui. Abbiamo questa tasca davanti che è imbottita, quindi va bene mettere il nostro smartphone. All'interno la tasca più grande abbiamo due taschini con un'altra tasca di chiusura, quindi tenere tutto ben posto in ordine. Abbiamo da tutti i due lati la chiusura, molto bello. Poi dietro, dal lato interno, abbiamo un'altra tasca, un borsellino, in pratica risulta così, a grandezza media, molto ben definita veramente, le solite chiusure che possiamo regolare, di buona qualità. Che dire, è veramente bello, mi piace tantissimo, veramente ottima qualità, impermeabile, quindi quando piove di sicuro non si bagna all'interno la roba. Un acquisto!